Vibbo Valencia ha ospitato la prima edizione della Fiera dei Musei della Magna Grecia, un evento promosso anche dal Ministero per i beni e le attività culturali, che si è tenuto nel castello Normanno Svebo. Una a due giorni interamente dedicata a quei luoghi della cultura che ospitano le importanti testimonianze della colonizzazione greca. Onore al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialvi di Vibbo, che attraverso il lavoro e gli sforzi della direttrice, ma di tutto il personale della direttrice Adele Buonofiglio, ha chiamato a raccolta tutte le realtà museali di quell'area geografica che facciamo coincidere con la Magna Grecia. Ed ha raccolto l'adesione entusiastica di tantissimi colleghi e operatori museali che fanno capo a musei autonomi e non autonomi di tutto il comparto meridionale. Addirittura in alcuni casi è stata proprio un'adesione di fatto con la presenza di alcuni funzionari i quali hanno illustrato il loro materiale. Altri invece, ma in maniera non meno entusiastica, hanno inviato materiali che sono stati illustrati, esposti, proiettati nel corso delle due giornate. Gli stand poi chiaramente hanno fatto il resto perché hanno consentito ai tanti visitatori di avere un confronto diretto con gli operatori presenti, di vedersi raccontare la vita che scorre dietro le quinte dei musei in un momento in cui i musei in generale, a livello nazionale, conoscono un favore che probabilmente non avevano mai conosciuto. Fatta eccezione in un certo qual modo per i musei calabresi. La Calabria, inspiegabilmente, è in controtendenza rispetto al resto della nazione. Se nelle altre regioni, i musei, o per meglio dire, il turismo culturale cresce anche di un 5%, in Calabria la situazione è un po' stagnante. Anche se il patrimonio culturale nella nostra regione non manca. E allora ci dobbiamo interrogare su altri fattori, ed è su quelli che dobbiamo lavorare. Qual è la condizione dell'accessibilità, l'abbiabilità? Come facilitiamo la vita ai nostri viaggiatori, visitatori? È così semplice raggiungere i nostri musei con i mezzi pubblici? E siamo, come dire, veramente accurati nell'accoglienza? Questi sono i tanti elementi su quali si sta lavorando e si lavora fra enti, si lavora fra comparti territoriali. Quello che i musei, nello specifico, stanno facendo è curare con molta passione la comunicazione, tanto per cominciare. E poi aggregare, quando non è possibile, con infrastrutture materiali, aggregare con le infrastrutture immateriali, quindi con l'utilizzo della tecnologia e di tutto quello che ci mette a disposizione la comunicazione. È chiaro che la fiera è stata anche quello che si definisce una strategia di audience development, cioè un meccanismo, una iniziativa, una strategia appunto per creare un nuovo interesse intorno a una realtà conosciuta ma che deve essere proposta ad una platea di pubblico sempre più ampia.